Come avete visto, gli spazi letterali sono stati tanti, la varietà della solidarietà è stata espressa in cento forme diverse, quello che conta è che quanto viene scritto viene anche vissuto e praticato da noi nella vita, viceversa, come diceva la signora, rimangono parole di libertà. Grazie a tutti per la presenza, se ho dimenticato di salutare qualcuno. Ah, ci sono ancora i fiori, me ne dimenticavo, i fiori per le signore, anche per me. Grazie e finite alle vanghezze che vogliono a queste mani. E torniamo a casa infiorate. Grazie ancora. Volevo anche dire che se sono presenti in sala candidati che hanno partecipato al concorso possono riempire un attestato di partecipazione. Se tutti i candidati ritornano sul banco, una foto di gruppo servirà di montanare una giornata più importante come quella di oggi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.